Salve ragazzi e bentornati alla carriera allenatore Allora ragazzi quest'oggi inizieremo il mese di maggio affrontando innanzitutto il Verona in campionato e poi andata delle semifinali di Conference League contro il Rapid Vienna e poi abbiamo la partita fondamentale di campionato contro l'Inter Come al solito raga prima di iniziare a giocare io vi invito a lasciare un mi piace, l'iscrivetevi al canale per essere sempre aggiornati e per continuare a supportarmi anche a commentare qualsiasi vostro dubbio, consiglio e perplessità a seguirmi sulla pagina Instagram e a sostenere il canale tramite un abbonamento e ad una donazione Detto ciò ragazzi possiamo scendere subito in campo a Verona contro l'Ellas Formazione pronta con Di Gregorio, Frepali, poi Christian Senteati, Amerzovic e Zanoli in difesa Centrocampo con Pobega, Eliott Anderson e Lazar Samazic In attacco abbiamo Longo, Brenner e Ilin Junior E occhio possiamo subito avanzare, Samazic la lascia lì per Brenner che può subito scattare Il destro da parte di Brenner che sblocca subito la partita dei ragazzi che oggi bisogna fare in fretta questa partita Contro l'Ellas va giocata con estrema semplicità e rapidità visto che abbiamo due partite molto più importanti da affrontare dopo Quindi 1-0 la sblocca subito Brenner e occhio ancora pari in avanti Brenner Riesce a resistere al contrasto e va col destro, cattivissimo Brenner raddoppia 2-0, 10 minuti di gioco Comunque ragazzi bisogna dire che Brenner sta sfruttando al massimo l'infortunio di Niccolò Cambiari Perché secondo me si sta avvicinando anche molto alla sua quota di gol E quindi potrebbe addirittura insidiare il primo posto della classifica dei capocannonini Però ragazzi non la controllo da un po' quindi non so effettivamente i numeri E occhio ragazzi Ilin Junior possiamo avanzare Ilin Junior vede il corridoio per Brenner che la fa leggermente scorrere Poi arriva davanti al portiere e non sbaglia Indemoniato quest'oggi Brenner che deve effettivamente fare la partita della vita Oggi deve riuscire a fare il più gol possibile Se vuole appunto andare a contendere il titolo di capocannoniere con gli altri centravanti della Serie A 3-0 per noi, tripletta in appena 21 minuti E occhio lungo ancora in avanti dai Brenner che oggi la vince tutta oggi La classifica capocannonieri comunque Pobega ruba palla ancora per Brenner Che può girarsi, la mette di cattivare sul primo palo Brenner Ma stavolta trova la parata del portiere chiesa E occhio Zanoli possiamo avanzare Ilin Junior appoggio dentro Lazar Samarzic a cercare Brenner che prova a girarsi il tocco Ilin bellissimo Lazar Samarzic che la doveva semplicemente appoggiare in porta Sbaglia tutto e siamo ancora sul 3-0 E occhio lungo, buono il tocco dentro per Brenner Brenner la lascia lì a Samarzic che può riprovarci stavolta col destro Non sbaglia, 4-0 per l'Udinese Eguagliato, scusate, eguagliato il risultato che abbiamo visto per tre volte consecutive Nella scorsa puntata ma ho la sensazione che oggi si potrebbe andare anche oltre E occhio Samarzic pone il tocco per Ilin Junior Che prova a sterzare, ci riesce ancora dentro Lazar Samarzic Grandissima conclusione di precisione e potenza col destro Doppietta personale per il capitano di giornate E arriva il 5-0 E termina anche il primo tempo molto bene così ragazzi 5-0 per noi, partita veramente chiusa Già nella prima frazione di gioco E una cosa che si potrebbe assolutamente fare ragazzi E far giocare in pratica Raymond il secondo tempo che purtroppo non c'è Comunque il mio obiettivo sarebbe quello lì di far uscire Brander Perché lo voglio utilizzare nella partita contro il Rapid Vienna Ovviamente ragazzi Raymond era troppo troppo stanco Facciamo che al 60esimo faccio entrare, non lo so, tipo ad Ingra Faccio il falso 9 oppure metto un centrocampista e mi invento qualcosa Però ragazzi effettivamente c'è da dire anche che Brander è un giocatore che recupera abbastanza bene Però facciamo la sostituzione, proviamo a mettere ad Ingra Poi vado a mettere anche Fujimoto al posto di Samadish particolarmente stanco Allora, ad Ingra può fare l'ATT che è l'unico fra i tre attaccanti Quindi mettiamo proprio lui come falso 9 E occhio Fujimoto, buono il tocco per ad Ingra Vediamo un po' Se riesce ad essere incisivo da centro avanti qui Riesce a fare veramente un bel tiro e arriva la gran parata da parte del portiere chiesa E occhio Fujimoto, buono l'appoggio per Ad Ingra che in velocità può andare Ad Ingra, Ad Ingra, Ad Ingra ci riprova e stavolta non sbaglia Chiuso il primo set 6-0 qui a Verona E occhio per Ro Uh, Di Gregorio qui C'è gloria anche per lui, azione molto pericolosa da parte dell'Ellas Che è praticamente anche la prima di tutta la partita E qui veramente sensazionale il nostro Di Gregorio che riesce ad evitare di subire gol Si tiene stretto il clean sheet Così c'è gioia anche per lui Ok raga, ci siamo Prima partita cruciale di questa puntata Udinese Rapid Vienna Abbiamo l'andata in casa Quindi cerchiamo assolutamente di vincere Anche in modo abbastanza convincente Per poi giocare il ritorno in scioltezza Per così dire E quindi saremo con Silvestri Fra i pali, poi Raum, Kivior, Biol e Jean Drey Yusuf, Gabribega e Fujimoto E alla fine ragazzi Diciamo che ce l'ho fatta Sono riuscito ad avere l'attacco migliore per questa partita Con Delefeu, Brenner e Ad Ingra Ciao ragazzi Ad Ingra Bonito tocco dietro C'è Brenner Che prova ad andare col sinistro sul primo palo Prima azione pericolosa della partita ovviamente È di Brenner E occhio però ragazzi Che ci prova anche il Rapid Vienna Primo tiro in porta effettivo Nella gara Però ragazzi Meno male che abbiamo un Silvestri Un Di Gregorio Che in questo finale di stagione Si stanno esaltando entrambi E occhio Biol Possiamo avanzare Addirittura con il difensore sloveno Fujimoto Lo lascia lì per Ad Ingra A cercare Fujimoto Dentro Brenner Stavolta stava per dire Non può sbagliare Ma becca Clamorosamente Il palo esterno E occhio possiamo Papala ad avanzare Addirittura con Raum E un po' è partito Raum E tocco al retrato A cercare C'era Delefeu Dentro Da Brenner Che si gira E tocco dentro Vedi l'inserimento Di Giandrea Addirittura Che purtroppo calcia malissimo L'azione però Era molto bella E occhio al corner Delefeu A cercare Kivior Che riesce a svettare Di testa Ma palla alta Ragazzi Stiamo giocando bene Ma non riusciamo A sbloccarla E niente ragazzi Termina anche il primo tempo Classico Self in tribuna Assente Capri Vegas Effettivamente si è visto poco Tre tocchi solamente oggi Per lui Tre passaggi vuol dire Comunque ragazzi Dati partita Che Ci vedono Un po' più predominanti Però ragazzi Si Stiamo giocando bene Però non siamo incisivi Come al solito C'è ragazzi C'è Brenner Che ha l'opportunità Di avanzare Decide di servire Ad Ingra Che va dentro Molto bene Da Brenner L'appoggio dietro Che peccato C'è però Fujimoto Che riesce a calciare Volevo servire Chi era Delefeu Mi sembra Che era Veramente letteralmente Davanti a portiere Da solo sbagliato Ragazzi Ne è scivolato il dito Qui sul calcio d'angolo Peccato ragazzi Comunque Stiamo ancora costruendo Stiamo ancora Avendo il pallino del gioco Qui buono il pallone Per Brenner Che viene chiuso Dai ragazzi Adesso ci manca solo il gol E occhio Ragazzi qua Azione molto confusa Qui Io chi vi ho rappremuto il tasso Per spazzare Addirittura Ma Effettivamente Mi ha tenuto Mi ha tenuto l'input E c'era il rischio Di fare un clamoroso Autogol Comunque qua ragazzi Riusciamo a salvarci E possiamo anche ripartire Fujimoto no Ad Ingra Che non scatta come si deve Forza ragazzi Dai Biolo qui Sfortunato nel rimpallo La palla che rimane lì E Silvestri Forse questa Poteva bloccarla Ma decide Di metterla in corner Servono i cambi ragazzi Allora ragazzi Io senza paura Vado a cambiare Tutto il trio offensivo Andando a mettere Longo Raymond Eileen Junior Quindi Levo l'attacco Titolare Per andare a mettere L'attacco dei sostituti E al centro campo Dentro Samantic Per Fujimoto E Pobega Al posto Di Yusuf Occhio ragazzi Non ci credo Qui arriva Clamorosamente Il vantaggio Del Rapid Vienna Eh ragazzi Una partita intera Che abbiamo provato A sbloccarla Poi Ci siamo fatti Infiocchettare In contropiede E arriva il vantaggio Qui secondo me Silvestri Non perfetto Al cento per cento Però forse lo prendeva Anche di Gregorio Questo gol E incredibilmente Ragazzi Dopo Tantissimo tempo Siamo per perdere Una partita Però ragazzi Ho Ciochicoffo Con Lungo Che può andare Ti prego Lungo Ti prego Lungo Che non sbaglia Uno a uno Vatti a prendere subito Questo pallone Non mi accontento Di questo risultato Che è sicuramente Meglio Rispetto alla sconfitta Però ragazzi Il Rapid Vienna Andava assolutamente Battuto Secondo me E vediamo un po' Ragazzi Possiamo tentare Anche un'ultima azione Ancora con Lungo Che può avanzare Vediamo un po' Siamo praticamente In area L'appoggio Per Raymond Che può girarsi Non ci credo Raymond Traversa Riga clamorosa Healing Non riesce a calciare Vediamo se ci danno L'opportunità Di fare un'ultima azione Ancora con Raymond Che però non riesce A controllare Come si deve il pallone E dovrebbe arrivare Il fischio finale Che peccato ragazzi Alla fine clamorosamente Abbiamo avuto l'opportunità Per vincerela Con Raymond Con il destro A giro Però purtroppo È arrivata Una traversa A di poco clamorosa Dall'altra parte Ragazzi 2-0 del Stadisburgo Che quindi È in vantaggio All'andata Contro in Nizza Comunque ragazzi Ci giocheremo Ovviamente tutto Al ritorno Al Diciamo In trasferta In Austria Però ragazzi È veramente Veramente strano Cioè strano Tra virgolette Per i nostri standard I nostri ultimi risultati Venivamo veramente Da tantissime vittorie Consecutive Arriva Questo pareggio Che sicuramente Ragazzi Ci può stare Capita Un periodo Un attimo Di riflessione Dopo Tantissime partite Giocate a mille all'ora Adesso ragazzi Però effettivamente Ho paura Di questa partita Contro l'Inter Che per noi È fondamentale Vista la situazione In classifica L'Inter È a 71 punti Potrebbe insidiare La nostra qualificazione In Champions Però ragazzi Le cose Stanno andando bene Mancano Tre Tre partite Noi dobbiamo guardare In Napoli Quinto Abbiamo 5 punti In più Quindi secondo me Ce la possiamo fare E allora ragazzi Diciamo che ho preso Una decisione Adesso per questa partita Contro l'Inter Ok Milan e Lazio Hanno già giocato Comunque ho deciso Di mettere La miglior formazione Possibile Perché diciamo Ultimamente Sto riuscendo A gestirmi Come si deve La situazione Lucidità E forma fisica Quindi Ho una squadra Titolare Tutta bella Fresca e riposata E secondo me Avrò l'opportunità Di averla anche Per la partita Contro i Rapid Vienna Quindi secondo me C'è la possibilità Che per due volte consecutive Possiamo schierare Questa squadra Poi Andremo a mettere Tutti i sostituti In campionato Contro l'Empoli Per poi avere La miglior formazione Possibile Per la finale Di Coppa Italia Contro la Juve E' un ragionamento Molto a lungo termine Che però Secondo me Può funzionare Comunque ragazzi Effettivamente Non ho presentato Come si deve Questa partita Contro l'Inter Giochiamo in casa Al Blue Energy Stadium Ovviamente Partita come detto Fondamentale Molto complicata Ma proprio Per questo Ho deciso Di provare A vincere Provare a giocarmela Con la miglior formazione Possibile Al 100% E quindi ragazzi Vediamo un po' Cosa succede Occio ragazzi Qua opportunità Per l'Inter La prima Dell'incontro Ci prova Mi sembra Che fosse Per Engheur Quello Comunque Opportunità Molto importante Per passare in vantaggio Ragazzi Siamo in un momento Un attimo Di riflessione Dove Si soffre Un po' Di più Del previsto E Occio Bisogna 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 fare attenzione A non crollare Nel finale 2-0 Ragazzi Segna Barella E occhio ragazzi Delefeu Può provare ad andare Delefeu Lo tiene in campo E prova a servire Tommaso Pobega Che si inserisce molto bene Vediamo un po' L'ex Milan Se si inventa qualcosa L'appoggio dentro Brenner Sul primo palo La deviazione Sarà a calcio d'angolo Prima azione offensiva Da parte nostra E occhio al corner Delefeu A cercare Biolo L'avevo vista dentro Peccato E niente ragazzi Termina anche il primo tempo Il finale di frazione Mi fa sperare bene Per un secondo tempo Un po' più produttivo Da parte nostra Però ragazzi È stato di fatto Che per il momento Non stiamo giocando Per nulla bene Ed è per questo Che provo a fare Un cambio di modulo Drastico e iperoffensivo E quindi ragazzi Come detto Cambio di modulo Iperoffensivo CDC e COC Raymond che entra Al posto di Gabribega Per avere la doppia punta 4-1-1-4 E niente ragazzi Nonostante tutto Qua l'Inter Continua a fare La partita E questo vuol dire Che sono veramente Forti loro Nonostante tutto Non riusciamo A costruire azioni Non riusciamo A giocare bene Anzi Sono andati Molto vicini A 3-0 Quindi Veramente Una partita Stortissima Per noi Proviamoci adesso Con Fujimoto Appena messo in campo Fujimoto Va col mancino Mamma mia ragazzi Se poi calciamo Anche in questo modo Dove vogliamo andare oggi E niente da fare ragazzi Finisce addirittura Qui la partita Sconfitta Sconfitta 2-0 E' poco da dire oggi Sappiamo affrontare Una squadra Che si è dimostrata Molto più forte Di noi oggi Poco da dire Peccato ragazzi Noto Un'improvvisa Difficoltà In più Però ragazzi Ci può stare Per la difficoltà Dell'avversario Un po' meno Forse Conti Rapid Però ragazzi Dopo tutte queste vittorie E' normale Avere un attimo Dove Appunto C'è Una frenata Fisiologica Ci può stare E' normalissimo Quindi Non ne farei un problema Sinceramente L'importante Ragazzi E' restare concentrato E sul perso Fortunatamente La squadra Ha recuperato tutta Fatta eccezione Per Raymond Ragazzi Che come sempre Si stanca tantissimo Stessa cosa Anche lungo Ma stavolta Ha recuperato Mettiamolo In panchina Raymond Me lo porto Perché non c'entra avanti In più A prescindere Potrebbe servire Gli vado a mettere Un piano Per allenamento Per farlo riposare Un po' di più Comunque ragazzi Vi faccio vedere Come sto facendo io Ultimamente Secondo me E' la cosa giusta Prima di ogni partita Quando preparo La formazione Poi vado anche A vedere Questa Questa schermata In pratica Il programma Di allenamento E cosa vado a fare In pratica Per La formazione Titolare Che ho scelto Per quella partita Per questa partita Vado a mettere A tutti Specifico Per l'energia Ok Invece Per i sostituti Vado a mettere A tutti Specifico Per le prestazioni Quindi vado Ad applicare A sostituti E riserve Poi ragazzi Come in questo caso Se c'è un giocatore Che si stanca Un po' di più Rispetto agli altri Vado a fare La cosa più specifica E quindi Vado a mettere Specifico Per l'energia E Prima di ogni partita Dopo Che ho preparato La formazione Vado a fare Puntatone A meno 5 Noi ci vediamo Alla prossima E ciao a tutti Ciao a tutti